C'è la faccia suonare con gli zoccoli, non si può suonare con gli zoccoli, voglio fare un blues proprio. C'è una canzone, sono dieci anni che questa canzone mi fa impazzire, perché binario triste e solitario va benissimo, ma il ritornello che fa casellante, che fermo te ne stai, dimmi come mai. E c'è il casellante che non sa cosa fare, perché se no deve dirgli alla Claudio Villa che deve essere una tragedia. Comunque come siamo? Allora c'è il secondo gioco. Siamo arrivati al secondo gioco ed è un gioco che serve per determinare una nuova classifica, darci il quarto classificato. Chi sarà eliminato da questo gioco ovviamente andrà a coprire questa quarta posizione in classifica. Cribbio, di Cribbio. Cribbio!